A fine anno scaderà la convenzione tra l'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro e l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Da mesi ormai si discute sulla validità del progetto, attivo dal 2011, al punto che è stata messa in discussione la possibilità di rinnovare l'accordo. Diversi esponenti politici ne hanno sottolineato l'inutilità, definendolo come un ennesimo sperpero di denaro pubblico. Ad opporsi a queste dichiarazioni sono i numerosi genitori calabresi che fino ad ora hanno suffruito del servizio ottenendo assistenza sanitaria per i propri bambini affetti da patologie rare senza varcare la soglia della regione. La nostra intenzione è quella di continuare con questa convenzione perché abbiamo saputo che la convenzione il 31 dicembre finirà ma non per volontà della Calabria ma per volontà del Bambin Gesù. Ora noi la domanda che ci facciamo e quello che vogliamo assolutamente capire è perché il Bambin Gesù si tira indietro nel momento in cui ci sono stati rappresentanti politici calabresi che invece di supportarci hanno cercato di mettere in cattiva luce l'unica cosa che a noi ci ha assicurato il futuro dei nostri figli. Quali sono i motivi che loro hanno avanzato per dire che questa convenzione non è più utile? Allora il motivo principale è lo spreco del denaro e il non ritorno dei numeri dei casi trattati a Catanzaro. I medici del Bambin Gesù ci hanno dato pubblicamente tramite l'avvocato Prejano il numero dei bambini che si estende ad oltre 6.500 prestazioni e ce l'hanno dato pubblicamente. L'ospedale di Catanzaro, la Regione Calabria ci può garantire lo stesso numero di bambini curati senza subire migrazione sanitaria e senza subire il disagio psicologico e sociale ed emotivo che vanno ad affrontare i nostri figli. Non solo per il dolore della patologia che loro hanno ma anche per la mancanza dei loro affetti perché uscendo fuori dalla nostra regione gli vengono meno l'affetto dei fratelli, l'affetto dei nonni che naturalmente non possono venire per le spese onerose che si vanno ad affrontare. Il nostro obiettivo oggi è chiedere pubblicamente e assolutamente una spiegazione al Governatore della Regione Calabria. Noi non abbiamo ricevuto nessun riscontro tranne se non degli articoli che discriminavano assolutamente la convenzione del Bambin Gesù a Catanzaro. Non abbiamo ricevuto nessun comunicato che ci dica per quale motivo questa convenzione non è rinnovata. Catanzaro non è una città nella quale bisogna fare opere pubbliche che dopo due anni vengono rasate di nuovo al suolo. Questo è lo spreco di soldi. Vogliamo giustizia per i nostri figli. Lo spreco di soldi è una sanità che è diventato un business. Noi abbiamo bisogno di risposte chiare. Anche lei qui oggi insieme ai genitori che stanno mantenendo questa protesta. Perché? Innanzitutto perché sono lo zio di un bambino che ha subito un intervento chirurgico qui a Catanzaro e oggi sta bene grazie all'equipe medica della chirurgia pediatrica del Bambin Gesù di Roma. Noi vogliamo pensare in positivo, non in negativo. Cercare di mettere d'accordo un pochettino tutte le parti studiando le motivazioni ma anche intervenendo lì dove è necessario per scongiurare una possibile non rinnovo della Convenzione con la Regione Calabria. Certo, dispiace dirlo quando si fa politica sulla salute dei bambini. Quando si fa politica, in questo caso politica spicciola, politica veramente di bassa lega sulle speranze di genitori che in questi tempi di crisi effettivamente non riescono ad affrontare tutte le criticità quando si ritrovano ad avere un bambino o una bambina che ha delle patologie. Questo la politica ce lo deve spiegare. Ci deve spiegare le motivazioni che spingono la Regione Calabria a non rinnovare la Convenzione. Se eventualmente ci sono state delle pressioni sulla direzione generale del Bambin Gesù sempre di tipo politico, noi lo scopriremo e lo metteremo in luce tutto questo discorso in modo tale che se c'è da vergognarsi, qualcuno si vergogni veramente di questo disastro.